Il caos rifiuti comincia a farsi sentire in alcuni comuni anche a farsi vedere ben chiaramente. A lanciare l'allarme a Santa Marina il consigliere di minoranza Salvatore Tagliaferri. In questi giorni, che hanno visto anche un incremento della popolazione presente sul territorio per gli arrivi turistici e dunque un aumento dei conferimenti, lo smaltimento dell'immondizia a Policastro ha subito a quanto pare dei rallentamenti per cui i sacchetti sono rimasti a terra più del dovuto, dando brutta mostra di sé in diverse zone del paese. È una situazione davvero inaccettabile, ha detto Tagliaferri. Questo inverno il comune di Santa Marina ha tenuto a terra nell'isola ecologica per ben sei mesi metri e metri di spazzatura. Ora in piena stagione estiva siamo di nuovo punti a capo. Le persone pagano i servizi ma probabilmente in questa città del futuro il servizio ci sarà davvero nel futuro. Ogni estate si registra sempre la stessa storia. L'attacco del consigliere non è rivolto, ci tiene a precisare agli operatori ecologici e a quanti si sobbarcano il lavoro più difficile di raccolta in questo periodo. A loro, continua Tagliaferri, va tutta la mia stima e gratitudine perché stanno facendo davvero di tutto in questi giorni per arginare i disagi ma se il problema lo si vuole risolvere vi è bisogno da parte di chi amministra di maggiore responsabilità nel gestire questo servizio e di maggiore controllo. Se le cooperative che gestiscono i rifiuti non sono all'altezza credo che chi amministra abbia il dovere di cambiarle o di attrezzarsi per soccombere alle mancanze. Per Tagliaferri bisogna investire di più nel settore. Il consigliere propone all'amministrazione l'acquisto di nuove casse da utilizzare almeno durante periodi estivi e l'avvio di incentivi nei confronti di chi differenzia bene.